Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video sui 10 trucchi di Minecraft 10 nuovi build hacks da utilizzare con i nuovi blocchi della 1.16 E siamo ormai arrivati a 90 Sì però volevo fare l'intro fig che correvo in mezzo a tutto il setup e poi mi sono schiantato sull'ultima Vabbè, vabbè ragazzi, sorvoliamo, non voglio rifarla Ma ragazzi ho altri 10 trucchi per voi Guardate qua che robina che vi ho preparato Quindi vi chiedo subito di lasciare un like Guardateli tutti i 10 e fatemi sapere nei commenti qual è il più bello e quale usereste nel vostro mondo di Minecraft Io mi tolgo i particellari, sono subito da voi Bene ragazzi, oggi andiamo un pochino a trattare vari argomenti Arrivati ormai ai 90 trucchi della 1.16 Direi che abbiamo fatto un po' di tutto e quindi possiamo spaziare su varie cose Infatti il primo trucco, la prima build hack che vi ho preparato È una cosa molto semplice Però mi è venuta in mente questa cosa Ho detto ma sarebbe davvero figo provare a riprodurre un armor stand del genere E quindi vi presento il guerriero con mazza chiodata Come vedete ho creato un armor stand a un'altezza in particolare Armato di nederite su 6 pezzi di layer di neve esattamente E l'ho ruotato in modo da avere il bastone che collideva alla perfezione Guardate che figato è uscito Con una catena fluttuante Sotto la catena item frame invisibile messo verso l'alto E blocco ruotato di nederite Sembra che stia reggendo un'arma molto particolare Ora questo è solamente un esempio di quello che si potrebbe fare Con gli armor stand e gli item frame invisibili Si possono fare infatti un sacco di cose davvero molto belle L'ho trajardata parecchio Questa cosa Però il risultato è davvero molto molto bello Immaginate avere tipo un ingresso Con due guardie così Che ti aspettano Farebbero molto timore a chiunque Chiaramente un trucco da fare con i comandi Quindi non è survival friendly Ma andiamo a vedere subito quest'altro Perché ragazzi Qui diciamo che abbiamo un misto E ho voluto riprodurre Una postazione da gaming All'interno di minecraft Vado particolarmente fiero di tutto ciò Innanzitutto abbiamo Vabbè la classica poltrona Ve l'ho già spiegata molte volte Abbiamo poi il pc Che è stato riprodotto con Per fare gli schermi dei banner Che sono molto semplici Sono fatti così E che ho visto anche nel mio server di minecraft Il server dei sub Infatti l'ho voluto riprodurre Per questo motivo Sotto questi Armor Eh sì Buonanotte Banner Ho messo degli item frame invisibili Con delle lastre Di blackstone Per creare questo effetto Di piedistallo Si può fare anche con un item frame normale Per carità Poi abbiamo il microfono Il bicchiere per bere La tastiera E il mouse La cosa 1.16 style È l'utilizzo della blackstone Che è molto pratica Per fare una cosa del genere Ma soprattutto Qui purtroppo È necessario il debug stick Ho utilizzato il muretto di blackstone Per creare Il pc Questa è la macchina Il pc di fianco agli schermi E ci sta davvero benissimo Da questa parte invece Abbiamo due botole Una contro l'altra Per riprodurre una console Si possono fare Con le varie botole Quindi vari tipi di console E poi Incastrando degli armor stand Sotto terra E facendo uscire solamente La parte della testa E mettendo poi Sullo stesso blocco Un bottone Ho creato Un controller La terza build hack È un enorme calice Fiammeggiante Una sorta di calice Di fuoco gigante Che non ha un vero e proprio significato Ma volevo provare A costruire qualcosa Utilizzando di nuovo La lodestone E in particolar modo Una cosa molto interessante Della lodestone A direttore del fatto Che si abbina Davvero a un sacco Di blocchi di pietra La lodestone Può far storcere il naso Per via del Suo foro centrale Che la rende Molto più scura Abbiamo provato In passato A inserire Dell'item frame Con degli oggetti Come se Dovessimo incastonare Una gemma Al suo interno La nella del star Ci sta molto bene In questo senso Ma se Proprio non vi piace Vedere questo buco Basta coprirlo Con un bottone di pietra E da lontano Non si nota neanche Il blocco si trasforma Totalmente E diventa davvero Molto bello Diventa diverso E può essere utilizzato Per varie costruzioni In questo caso Ho provato a creare Un calice Perché mi faceva Un certo effetto Vedere questi dettagli Che sporgevano Però ci si può fare Davvero di tutto Anche Magari per un castello Quarta build hack Torniamo su una cosa Che abbiamo già visto E quindi una riproposizione Dell'enchanting table Con le lanterne azzurre Che richiamano L'azzurro dell'enchanting table L'ossidiana Questa volta ho messo Anche delle ancore Del respawn A terra Che stanno molto bene Immersi in tutto questo Ma qual è la differenza? È un semplice trucco Item frame invisibile Sopra l'enchanting table E guardate qua Che effetto Posso piazzare Al suo interno Un oggetto In questo caso Una spada La spada Sembra Essere all'interno Del libro E sembra fluttuare Sopra L'enchanting table È davvero bellissimo Vedersi Peccato che si possa fare Solo con i temple invisibili Però ragazzi L'effetto È davvero Molto molto carino E poi si chiude il libro E la spada Rimane più o meno Al suo interno Perché non sfruttare le novità? Per fare qualcosa di totalmente diverso Come ad esempio Una palestra Immaginate di essere All'interno della vostra casa Con questa build hack Con queste due build hacks In realtà Che ho voluto riassumere In un unico slot Potete creare Una palestra Quindi qui abbiamo il bilanciere Dove semplicemente Ho costruito I pesi Con un'asta di endrod E due blocchi di nederite Ora È abbastanza dispendioso Me ne rendo conto Potete usare anche altri materiali Però la nederite Ci sta particolarmente bene Per poi incastrare la struttura Che regge il bilanciere Basta mettere Ovviamente Di fronte Due armor stand E pusharli con un pistone In modo da farli Compenetrare Al tutto E come vedete È uscito tutto Molto bene Anzi In realtà Sarebbe il caso Di spostare le endrod Sugli armor stand Mi correggo Mentre da questa parte Abbiamo anche Un Oh no Un sacco da box Però ho distrutto Ah che palle Vabbè Vorrà dire che vi faccio vedere Che basta fare così E pushare la endrod In posizione Ed il gioco è fatto Il sacco da box Invece È stato fatto Di red concrete Con sopra un banner Con dei dettagli Per farlo sembrare Un sacco da box La cosa 1.16 È che viene appeso Con la catena Se non ci fosse la catena Sarebbe molto Ma molto diverso Preciso che Anche se come al solito Ho messo del mio In tutti i lavori Alcuni di questi trucchi Ad esempio Il sacco da box L'ho visto dal canale Average Tuna sandwich Che è un canale In inglese Dove trattano Principalmente Tratta principalmente Buildox Quindi diamo I dovuti crediti E andiamo avanti Perché ragazzi Qui abbiamo Un sentiero Che può essere Immaginato Di notte Anzi Facciamo anche Un bel Time set 15.000 Ad esempio Quindi immaginate Di essere su questo sentiero Costeggiato Da dei pilastri Delle panchine Un po' di vegetazione E come vedete Con delle endrod Che vanno in una lieva E una trapdoor Di betulla Creiamo una lampada Davvero particolare E unica Ora Sappiamo che la luce Proviene in realtà Dalle endrod Ma se il terreno Come ho fatto qui Lo fate di basalto E sotto i lampioni Mettete delle aree Di cobblestone Sembra che questi Particolari lampioni Stiano gettando luce Sul sentiero Infatti quest'area È solamente La parte più illuminata Dell'intero percorso Così è molto semplice Ma fatto in larga scala Potreste fare Dei giochi di luce ed ombre Con i blocchi Davvero molto interessanti E ovviamente Non poteva mancare L'albero All'interno Di una Di un video del genere Quindi questa volta Mi sono cimentato Nella creazione Di un bambù Custom Che è un po' esagerato Un po' esasperato Questo bambù Però mi piaceva molto l'idea Quindi abbiamo Una canna di bambù Che cresce E poi sopra Ho voluto mettere Una vegetazione Un pochino più fitta Per fare tutto ciò Ho utilizzato Del fogliame di giungla Item frame invisibili Che sono una manna Dal cielo Dove ho incastrato Vari tipi di foglie Quindi utilizzando Le alghe E i lillipeds Per creare le foglie Poi utilizzando I comandi Ho settato Queste fern Quindi queste felci All'interno Dell'albero Per creare Diciamo Dei rami Delle parti Di foglie Molto diversi Che si abbinano Secondo me Molto bene Al concetto Del bambù Sotto Chiaramente Riprodotto Una piccola zona Con il pozzol Mettendo Dei coralli Che vicino Alle ninfe Dovrebbero ricordare Una sorta Di fiori di loto Più o meno Anche se è un po' Fuori contesto E poi le foglie cadute Negli item frame invisibili Come avevamo già visto In passato Ora Una build hack Molto semplice Infatti All'interno Di questo slot La casa Il percorso E tutto Non c'entra niente Questa cosa L'ho già usata Nel mio mondo Di sopravvivenza Ma non avevo Item frame invisibili Perché ragazzi Le torce Hanno perso molto Da che ci sono Le lanterne Ma guardate Quanto sono carine In questo modo Qui dietro C'è un item frame invisibile Nel quale Ho piazzato Un leggio Il leggio Andando poi A compenetrarsi Con la torcia Piazzata invece Sul blocco Crea il perfetto Supporto Per la torcia Guardate com'è bella Sembra incastrata In un supportino Di legno Che la fa Sembrare Molto più collegata Alla parete Oltre che più dettagliata E in grado di competere Con le lanterne Quest'altro slot E quest'altro build hack È abbastanza strana Insomma Vabbè Si è un divanetto Azzurro Con legno del nether Una tv Che c'è di particolare Direte voi Hai usato la black stall Beh Ok Beh ragazzi La cosa particolare Non è qui Ma è dietro Perché ora Noi vediamo Lo schermo di una tv Ma se noi Giriamo attorno In realtà C'è una stanza Di controllo E la tv È un vetro Che può essere Utilizzato Solo da questa parte Da questa parte È trasparente Dall'altra parte No E quindi Dietro la tv In realtà Si nasconde Una spia Che ci sta osservando E questa E questa è la testa Di Rico Di Brawl Stars Non trovavo una telecamera Quindi ho usato questa Questa cosa merita Una spiegazione a sé Innanzitutto Questa in realtà È una mappa Ragazzi Una mappa Che ho fatto Piazzando Un casino Di concrete Nera Laggiù E poi ho mappato L'area Come avete visto Ora La mappa Può essere messa Su un item frame In questo caso Se noi la mettessimo Su un item frame Vedete Si fa il bordino Ok Ma se voi la piazzate Su un item frame Invisibile Il bordino Non si crea E questo fa sì Di creare Un effetto Dove da questa parte Noi vediamo la mappa Che in questo caso Può essere lo schermo Di un tv Ma potrebbe essere Una qualsiasi mappa Ma dalla parte opposta Essendo che non ha il bordo La mappa non si vede Perché La sua facciata È dall'altra parte Quindi vediamo Una normale finestra E quindi Possiamo creare Una stanza Dove spiare L'esterno Senza farci notare Che è molto creepy Ma potrebbe essere Molto divertente In multiplayer Tornando alla situazione Casalinga Ho creato una rapida Camera da letto Ovviamente il fulcro Come vedete È questo armadio Dove tra nederite E abiti vari Ho voluto creare Una composizione Di vestiti E questo è tutto vanilla Mi fa impazzire Il livello di dettaglio Che puoi raggiungere Come funziona Semplicemente Ho piazzato Degli armor stand In modo da farli cadere Sullo stesso blocco Ma uno proviene Da sinistra E l'altro Proviene da destra Pushati con un pistone In questo modo Ne fai stare Quattro Ma anche di più Volendo Io ne ho messi Quattro in questo caso All'interno di due Solo i blocchi Quindi qui abbiamo Un armadio Fatto di botole E porte Che è aperto E all'interno Troviamo Appesi Appunto I nostri vestiti Tutte le magliette Tutte le magliette Ci sono anche Degli elmi Dei pantaloni E sotto Ovviamente Item frame invisibile Con le scarpe Piazzate lì L'effetto è molto Molto bello Se volete fare Un armadio custom Particolare E diverso dal solito Nella vostra casa Cosa che prima o poi Dovrei fare anch'io Ah ma il tempo vola Quando ci si diverte Ero così preso Nello spiegarvi Che non mi sono accorto Che era la decima ed ultima Vabbè È un peccato ragazzi A questo punto Forse Se avrò altre idee Potrei riproporvi Anche un decimo video Per vedere Altre dieci build hacks E poter dire Che ne abbiamo fatte Cento con la 1.16 Sarebbe un bel traguardo Fatemi sapere Se nel caso Vi piacerebbe Intanto ragazzi Per questo video è tutto Io vi ricordo Che stasera Non sono in live E ci vediamo Domenica Con la mod review E domani Con una nuova live Quindi ragazzi Io vi saluto Vi auguro una buona giornata Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Di queste build hacks Un saluto da Eren Blaze Ciao a tutti